Io penso che sia un'assunzione di responsabilità quella di costruire impianti sportivi adeguati al nome di Venezia in maniera che poi anche privati o comunque chi vuole venire investire nello sport ma non solo nello sport anche nella cultura e nel divertimento più in generale possa trovare a Venezia strutture adeguate. Costruire il bosco dello sport è un'assunzione di responsabilità del comune non solo verso i cittadini che un domani ne utilizzeranno le strutture ma anche di chi un giorno vorrà investire in questo settore a Venezia. Il vice sindaco e assessore allo sport Andrea Tomello risponde così a Marco Gasparinetti che ha osservato come a differenza di altre città italiane i costi di questo genere d'opera a Tessera siano interamente a carico del pubblico. Con 16 mila spettatori per quanto riguarda lo stadio si possono giocare tutte le partite di Coppa Europea e di campionato tranne naturalmente le grandi partite dei campionati europei o nazionali del squadro punto nazionale. Per il palazzetto lo stesso, un palazzetto che ti permette di fare Coppa Europea ma soprattutto ti permette di fare i grandi concerti, i grandi eventi come si fanno già in altre grandi città italiane, penso a Milano e penso a Roma. Mentre in comune si dibatte l'accordo di programma del Bosco dello Sport di Tessera su Caffarsetti si è abbattuto un aumento della spesa dei lavori di costruzione stimato dall'assessore al bilancio Michele Zuin in ulteriori 24 milioni e 762 mila euro. I costi sono aumentati come sono aumentati tutti i costi purtroppo delle opere che stanno vedendo luce in questi anni ma il governo, ancora il governo Draghi aveva stanziato un fondo apposito per aiutare i comuni vincitori di bandi PNR per continuare a progettare e continuare a fare i lavori. Quindi insomma su questo governo ci viene incontro ma è una norma naturalmente nazionale che va incontro a tutti i progetti PNR che sono stati finanziati.